benvenuti a questo quarto video tutorial per quanto riguarda le gradatorie provinciali ed istituto di supplenza anni scolastici 2024 25 e 2025 26 in sostanza stiamo parlando delle gps del bienio 24 26 entra una volta entrati sul sito del ministero dell'istruzione ed essendosi logati con lo speed nell'area riservata andando proprio direttamente alla pagina delle gradatorie provinciali ed istituto si entra nel modello di presentazione della domanda dove ci sono le sezioni da poter compilare che riguardano proprio la compilazione vera e propria domanda una volta già compilata come potete vedere nei tutorial precedenti dall 1 al 3 le due sezioni principali quella la prima obbligatoria vedete questo asterisco nero sta a indicare proprio la sezione obbligatoria una sezione obbligatoria averla compilata indicando tutti i le gradatorie per cui si ha titolo di accesso e dunque avendo le indicate e poi avendo compilato i titoli ulteriori rispetto e il titolo di servizio per ogni singola tabella di valutazione delle gradatorie inserite andiamo a vedere come si compila la sezione dei titoli di servizio titoli di servizio fondamentali per perché il servizio da punteggio che inizialmente può essere un punteggio di natura specifica e dunque dare la garanzia del punteggio fino a 12 punti per anno per quanto riguarda la classe concorso specifica ma darà anche per tutte le altre con classi concorso non specifiche la metà del punteggio fa eccezione il sostegno perché il servizio prestato sul sostegno e specifico sulla gradatoria di sostegno di specifica ma è anche da lo stesso punteggio specifico per tutte le classi di concorso del medesimo ordine grado di istruzione per cui chi fa per esempio servizio su adss e poi vuole spendere questo servizio specifico per tutte le classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado lo potrà fare facilmente perché ha diritto ad avere 12 punti a cascata mentre avrà i sei punti c'è la metà del punteggio il 50 per cento del punteggio nelle classi di concorso di un ordine e grado differente andiamo a vedere come si compila la sezione dei titoli servizi sia accede si entra in questa area e si aggiunge un titolo di servizio per esempio il sottoscritto quest'anno ha insegnato matematica e fisica in una scuola statale e può indicare di aver insegnato in questo caso siccome matematica e fisica non c'è ho inserito altre classi di concorso supponiamo di avere insegnato latino italiano e latino in un liceo si indica italiano latino nel liceo si indica l'anno per esempio il 2023 24 si dà poi si specifica che il servizio è stato prestato nei percorsi di istruzione dei paesi europei no perché è stato prestato in italia poi si dice che tipo di insegnamento sia si è fatto e si indica dunque la classe di concorso per cui si è prestato l'insegnamento la 0 11 immaginiamo che è specifico poi si entra nello spena la tipologia del servizio si dice che tipologia di servizio ecco qui si hanno le varie tipologie di servizio per indicare il servizio prestato in una scuola del sistema di istruzione nazionale dunque una scuola statale si fa questo servizio qui la a c1 e si indica il servizio tipico della scuola statale poi si seleziona la tipologia queste se c'è una super valutazione se è stato prestato in una piccola isola piuttosto che in una scuola di montagna o in istituto penitenziario ma appunto questo è facoltativo perché non tutti hanno questa caratteristica poi si dirà se l'annualità di insegnamento è stata fatta sul posto di sostegno nel relativo grado ma oppure nella classe concorso specifica e poi si darà il periodo di insegnamento attenzione perché in tal caso il periodo va è un 23 24 dall 1 settembre ad esempio del 23 ma la data di fine non può superare la data di presentazione alla domanda che scade appunto il 10 di giugno dunque si può inserire fino al massimo del 10 giugno e dunque si può fare in questa maniera e poi si fa un calcolo a giorni per avere il numero dei giorni e si deve indicare anche l'istituzione presso il quale è stato prestato il servizio per esempio liceo classico telesio l'indirizzo e facoltativo si indica la provincia di cosenza ad esempio è il comune che il comune di cosenza e quindi a questo punto il tutto è stato scritto si può fare inserisci e sia l'inserimento del primo titolo così andando avanti si possono inserire altri titoli importante e verificare sempre che il tipo di servizio è molto importante che si viene che viene svolto perché un tipo di servizio ripetiamo se si volesse indicare una per esempio sempre a 0 11 2022 2023 e indicare che se il servizio è stato prestato fuori dall'italia in questo caso no indicare proprio la classe di concorso 0 11 ripeto ripetiamo esattamente quello che abbiamo fatto fino ad ora ecco qui attenzione perché se si volesse dire altri tipi di istruzione per esempio quello dei percorsi in diritto e dovere all'istruzione che sono stati definiti da un particolare articolo 1 comma 3 del decreto legislativo del numero 15 del 2005 oppure se il si vuole parlare di istituzioni statali e parità nel sistema e ma di servizio a specifico dunque si va su questo oppure se si è fatto un percorso di istruzione paesi esteri e allora si fa il dc1 insomma c'è ogni tipologia di servizio è inserita in questo elenco a tendina speriamo che questo tutorial sia utile per la compilazione della vostra domanda seguiteci ancora nei nostri canali social facebook youtube in particolar modo per seguire le dirette che parleranno anche e soprattutto di gps e di come si compila la domanda arrivederci grazie a tutti grazie a tutti